l'ha riavviata, ah minchia, bene siamo tornati in live ragazzi, siamo tornati in live e devo aumentare l'attesa di cosa prima che termini la diretta, ok si l'ha recuperata però ovviamente penso che la dividerà in due, riprendi, ok ci siamo vai vamonos, vamonos, problemi con la diretta ragazzi, sembra che qua c'è il tempo demoniaco proprio il tempo del maniaco c'è, ma un botto di soldi ma non mi li fa usare, cioè vai a comprare, forse è questo, e ok fammi comprare vediamo un po' alle grazie, perché non mi fa usare le grazie questa roba, ah perché le munizioni pesanti allora compriamoci una molotov e un kit di attrezzi che non si sa mai magari può essere utile, anche io non lo sento, ok, queste? queste? si possono anche leggere, questo è male qua tipo questa? vai Ale, fammi vedere cosa sai fare oddio hai visto che ci sono quelli carazzati eh? no quelli con l'elmo sono carazzati oh cazzo ha preso il bot sta male mi sto invenendo per continuare grazie Ale schiena muore schiena muore sei un vero macio mettiamoci nei cadaveri dai ui la ui la guarda la che mina che do tutti lavano, guarda non sparare ff no dai con la mina ne salta hai fatto scattare una oh cazzo un ciccio bimbo ecco questi sono torti eh volevi madonna e che si spacco la faccia quelli che mi metto vedi questi qua sono carazzati vedi oppo scusa guarda spera un attimo qua che cosa cosa hai notato che scusate non so se hai notato che potato di luce ha fatto scattare l'allarme ahahahahah ahahah ohx scusa non l'ho fatto apposta mi è partito un proiettile contro la macchina d'ho inic가�urg scusate che a me piace sparare io abbiamo già sterminato una stirpe magari da qua magari da qualche bonus adesso il gioco dice basta arrivare per tutti i bastardi arrivare lo zombie vedi che arriva e spegne l'allarme della macchina e se ne va però sarebbe un easter egg fighissimo che non lo puoi uccidere tipo arriva cammina tranquillo ti guarda dice qualcosa spegne l'allarme se ne va ti crascia tutto questo è il potere questo è il potere la santa mazza come correva sto qua ok vuole faccio l'ultimo ora arrivano quelli corazzati sono tosti eh difficile ammazzare i zombie normali oh un po' pazzetto prendi le carte qua c'è pieno di carte eh se esplori c'è un defibrillatore quale vuoi il defibrillatore o no c'è già il borsone non posso beh allora io mi tengo il kit di attrezzi si il kit di attrezzi tiene accogli tutta la moneta che trovi bisogna rompere questi affari qua che portano ah si credo ho fatto un altro un secondo non si può scassinare trova la mano di bob deve cercare un bob morto e prendere la sua mano per entrare che gigante qua quando da bene c'è qualcosa una k m4 e scarpe però è proprio obbligosa per meno mh ancora un bottolo eeeh dove cazzo ci manco un bottolo no eeeh però non è brutto però è meno di sera cazzo mi chiede un kit ah qua sta il kit di attrezzi che magari ci dà la mini vieni qua ce l'ho cazzo cazzo coprimi vieni qua guarda che hai visto questo coso bello vieni qua che c'è una cassa per i kit di attrezzi eeeh tesche di bob no dove vai vieni qua vieni qua c'è il tesche di bob qua mi serve cioè deve cercare di prenderlo ma vieni qua che c'è la cassa qua lancia fiamme ah lancia fiamme senza ne capire lui lo può sapere si già lo diceva lui eeeh lancia fiamme no ma ma cazzo me ne faccio un'arma leggendaria come cazzo me ne faccio a me piace mi piace sparare proiettili ma è bello essere anche onnipotente guarda è bello c'è l'acqua lunga eh porca miseria tanti sono cazzole dove siete che sono veramente tanti cazzo salite salite cazzole 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 salite cazzole 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 il bot anna grande il bot Mi chiamano gli one-shoti sti qua col fuoco Però esplora prima Non fa dove bisogna andare Scommentami i lati Che c'è? Un caso è mai preso C'è un comica drive L'ho spaccato di sberle Un incrocio di schiafi Comunque che te te le cerchi Porco deagle Sì facciamogli se chi tutti ha le minchia Un macello Un massacro bordello Non si devono permettere mai più Mai più Ho attirato l'orda L'orda Per l'orda Wtf che arriva da l'orda 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 Sta arrivando Aiuto Nooo Dimmi il lone Ma se mi ranicco in queste viscere Dobbiamo andare a spaccare quell'ale Non avere paura di tutto Spaccato? Che cazzo sarebbe No Faccio quelle Finchè ma quanti visite ne ha fatte? Tutte queste qua che portano Questa specie di fluido Sì via ce ne ha un bordello Mi ha agganciato Oh che vuoi? Mi ha agganciato Grande Bot Mi ha agganciato Che crepa che mi ha dato questa? Corazzato questo Parco d'inci Sì ci sono quelli corazzati che sono Veramente degli scazzacà Parco di Eh Eroneamente ha sparato alla Alla porta che è allarmata Potrei dire di non averlo fatto apposta Ma perché Perché dire bugie? Ci sei almeno entrato dentro Perché c'è roba No Gli ho sparato ma non per entrarci Viste che ormai Tanto l'hai inocchiata Ma questi qua comunque Non muoiono eh? Quelli corazzati Grande E abbiamo fatto una strage Quindi se io dovessi fare così Ah no niente Ok allora entro ormai Bene Munizioni Soldi Cosa che possono sembrare Interessanti Munizioni Va bene non c'era niente di utile Della verità Cazzate Non capisco perché Ne mettono così Sapendo che non servono a niente Ok distruggiamo sto Si Si Fatto Abbiamo trovato la gamba di Bob Che cazzo Apri una porta allarmata eh? Apri una porta allarmata eh? Si si Qua c'è la gamba di Bob Ma dobbiamo trovare la mano di Bob Per aprire quella porta Un'altra mi sa Senta Semmai sembra la stessa Cazzo Questa dove cazzo è arrivato? Ci vorrebbe una mini mappa di Bob Quanta gente sta arrivando Uh mi aveva quasi preso ma no Ma dove andava preso Porco di La bot walker Aiutatevi Aspetta aspettate Stai spaccando Ti ho visto volare Non c'è pure aiuto Help I bot I bot Non sono medici Si ma adesso non ti curano Allora Non c'è Molto Ma non c'è Punti Questa è lì Amore Non mi chiede ridono quindi sono consapevoli qua sotto è morto si effettivamente ce ne sono un bel po dove andate bambini copri di lì che io copro dietro c'è anche il botwalker è cattivissimo ma arriva quello grosso su dalle scale non pensavo potesse salire ma si si arrampicano sti qua mica sono bastardi ma non sulle scale non pensavo sono dei bastardi ooo aiutami che non va giuuu porco diiii la santa mazza la santa mazza voi non potete capire il potere della mazza manigoldi indiorenti e stoldi caricaaaaaaaaa ma ce ne sono ancora qua di sti bubboni io lo sto facendo uno lo sto facendo io lo faccio da qui ma mira ma mira queste botte che ti sbendono madonna mi fa salire qua grazie mi fa salire qua grazie ah meglio di niente grazie grazie ahhh grazie ahhh ahhh se vero ma giusto ohhh oh ehi baby oh ma che c***o ma c***o cioè non ci arrivi questo p***o oh c***o ci arrivo invece non lo devi oh Dias muore eh dove c***o? ah mica ma dai che i bot non scappano come te Ale erano da me e sono teletrasportati da te Dio caro frate dei veri amici perlomeno dei veri amici arrivano eh c'è ancora uno però quando è carico arriva si eeeh cerchiamo con tutto questo casino tra poco ogni infestato nei dintorni si dirigerà lì no qua qui 9 metri qua dentro eccolo fatto la mano l'abbiamo trovata si si ho trovato si ma non posso sta qua dentro sta qua dentro che adesso arrivano i cosi eh si arrivano arrivano i mille di ognini si passero da oh l'hampresa 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 perchè non fa Parco deagle Stavo l'amico Ma che cazzo c'hai la mano? E mo? Si mi devi aiutare Mi devi accompagnare Per aprire la porta del rifugio Vente con me perché Deve usare il suo braccio per picchiare Oh la giubia andare Non devi andare indietro Non c'è da usarla mai No, è qua la mano E qua che si usa? Non mi serve più Ah perché abbiamo fatto il giro Mi stai aiutando ad entrare Bob Bene Ah questa è la rifugio Gente, 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 gente Non tornerò là poi Alco diesel Ho anche un pastoccio Gli ho fama preso Mi devi toccare Merda Minca può anche entrare? No Eh sì, eh Fa' un c***o Che sfortuna Io, non mi riesco a fare Ok, ok Ah, devo metterla Metterla Sì, è tanta La c***o Mi è vado Uuuuh 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 Trofeo Perfetto 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 Ricarica Che Oppa scioppa Scusa, vediamo quello che mi interessa Mi interessa l'attiva Quando ripogli l'arma Questa si ricarica Quando la tua scuola saccheggia le maniere Tu ricevi tre monete aggiuntive Al fine Cinque volte Oh c***o Mi ammerda Linea di riferimento di casa infestata Completata Scattante Ok, ne ho ancora duecento Duecento dieci Duecento dieci La nonnetta E duecenti dieci Ah, devo per forza partire da qua Il bro Bene Bene Direi che poteva anche non Dare di matto la connessione Per i ventisei minuti Che sono avanzati Comunque va bene Va bene No problem Mi saluto ragazzi Bene, anch'io chiudo questa live ragazzi Buonanotte E ci becchiamo Sì Questa sera In realtà Diciamo domani sera Comunque è bella Ciao a tutti ragazzi E buonanotte Buonanotte Grazie.